Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su una serie Minecraft principale nella 1.13 Allora, tralasciando il semplice fatto che non è possibile, che ogni volta che io inizi un video deve essere, forse è un rumore di creeper questo L'ho sentito, era un rumore di creeper, no? Ok, va meglio così Allora, ho fatto un paio di cose off camera, ma giusto ragazzi, due cavolate, l'ho messo principalmente a cuocere un po' di parate E ragazzi, ho messo a cuocere il nostro ferro, perché oggi, finalmente, faremo un pochino di cose in ferro Allora, come prima cosa, ci serve assolutamente una spada e un secondo piccone Dovremmo essere in grado di farci l'armatura? Sì, cosa mancano i piedini? Oh, ok Ora respiro perché almeno i mob non ci one-shotano Detto ciò, ragazzi, voglio fare un'altra piccola cosa prima di partire Ovvero, voglio fare un paio di picconi in pietra Visto che non voglio sprecare tutto il ferro che abbiamo per fare i picconi Perché abbiamo veramente, veramente poco Quindi direi che la zappa possiamo incascerla a casa Faccio una breve sistemazione di tutto l'inventario e poi partiamo Perché oggi, oggi ragazzi, andiamo a esplorare La seconda mega miniera che c'è sotto a casa alla ricerca di diamanti Ovvio, ci saranno tantissimi mob, ci sarà ovviamente difficilissimo Ma noi non ci facciamo spaventare Eccoci qua, ho fatto, non mi ricordo quanto Forse un po' più di uno stack di torce Non mi ricordo, sì, un po' più di uno stack di torce Ho sistemato l'inventario, ragazzi Siamo pronti per andare giù in miniera Ben attrezzati questa volta La volta scorsa abbiamo rischiato veramente tanto Ora non stiamo fortissimi Ma almeno ci proteggiamo, ragazzi Perché non è possibile Senza armatura fa veramente troppo male La strada per arrivare nel posto giusto Che non è questo, ovviamente sbaglio strada Che invece è questo, ovviamente Ok, perfetto Andando qua troveremo Oh, era così vicino, fantastico Allora, qui dovrebbe esserci la grotta del male Allora, per prima cosa Voglio fare una scalinata sicura per scendere E dividere la grotta in due Quindi, momentaneamente Chiudiamo l'entrata da questa parte E incominciamo a esplorare Un po' questa parte, invece Ok, abbiamo un'armatura Ma non possiamo fare troppo di spavaldi Ok, ci siamo Ok, va benissimo così Oh no, quanto carbone c'è? Quanti? Ok, buono Una cosa buonissima, ragazzi È che ci sono tantissimi materiali La cosa meno buona È che ci sono tantissimi mob Eh già Allora, uno zombie Che andiamo subito ad affrontare Allora, noi non vogliamo salire Anche perché qui penso Li porti poi in superficie Credo che è abbastanza alto Per portarci quasi su fondo del mare E continuerei Ma forse da questa parte basta Ok, da questa parte sembra basta Ora ci addentriamo Nella parte più oscura Sinistra e numerosa E vabbè Dimmelo Dimmelo Che è un casin... Un trenino di mob Un trenino di... Una conga di mob Stiamo facendo Dai, balliamo la conga Su Uno alla volta Uno alla volta L'ho già vista questa scena, ragazzi L'ho ampiamente già vista questa scena Ok Ok Perfetto Allora Però stiamo usando troppo piccone in ferro Non mi piace questa roba Dobbiamo usarlo di meno Eh vabbè ma... Eh vabbè ma quanti Una confraternita Avrei entravate ragazzi Qui dentro Di qui cosa... Ma 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 è un'isoletta C'è questa roba qui È sotto la nostra isoletta Ok Come fa a esserci tutta sta roba Sotto un'isola grande Due per due Non è... Dove ci sta? Non è fisicamente possibile Allora Basta mob Ok Ho detto Ma... Pappa Pappa col pomodoro Mia Un'attimo Allora Zitto Zitto Buono 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 Ma ma allora Dai morici Ok Ma ragazzi io adesso Sono andando avanti Perché è troppo grande Questo posto Ma poi dovremo pian piano Esplorare il tutto Perché veramente Ci perdiamo Tanto tempo A vedere Cosa c'è in ogni singola Guarda E c'è un creeper Oh Ma vabbè ma si Ma qualcun altro No Ma quanto è grande Questo O almeno qua si ricongiunge Va bene, almeno abbiamo tolto un'altra strada Visto che qui fa da anello Allora, torniamo un attimo da questa parte E vediamo se qui è un vicolo chiuso ORO Io non lo so, ragazzi Io mi esalto sempre quando trovo l'oro Ma in Minecraft l'oro serve a poco Veramente poco Quindi, sì, oro Ma no, non serve un cavolo l'oro Vabbè, quindi sempre meglio che averlo che non averlo Per adesso, vedete Poi con le mele d'oro e tutto quanto È un altro discorso Però, all'inizio, non è forse la risorsa che vorreste trovare In verità, vorremmo trovare dei bei diamantolli Diamanti che, essendo all'altezza 26, 27 Forse non possiamo ancora trovarli Cioè, potremmo trovarli Ma è veramente tanto, 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 tanto raro Io lo dico, io qui mi perdo Non è possibile per me Cribbio Cosa, cosa, dove, dove Dove devo andare Aiuto Aiutissimo No, dai, ti prego Dove sono finito? Un vicolo cieco Mmm Che bella sensazione di cacca Calma e sangue freddo Abbiamo un'armatura Siamo forti Siamo capaci Non moriremo Oggi Spero Creeper 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 No Fermati Non ci provare Neanche Perché Ma, eh Salve Buon amico Ok Grazie Va benissimo così Abbiamo finito le torce Torce, 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 torce Ok, grazie mille Cacca Eh, ok Scendiamo ancora No, non scendiamo più Non scendiamo più Salve Due spintolini Ma è più che bene Cosa c'è qui Cosa c'è qui Cosa c'è qui Niente È un vicolo cieco Creeper No, no Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Io non volevo fare un episodio così ragazzi Io volevo fare un episodio tranquillo e rilassante Ok Io volevo fare un episodio di esplorazione Allora Fatti chiari Vabbè Se esplodi lì Magari non fa troppo danno Ma sì Ma perché io passo Zitti 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 Eppure Ma vabbè Ma sì Qualcun altro Era uno scherzo Non deve per forza dire un'altra persona Cioè io ho detto giusto perché Dovelo fare il simpatico Non chiedere Ma no Ma non ho capito Ma quanti mob ci sono in questa 1.3 No io non Non era Time out Time Out Ok Buoni Abboni Ok Voglio un attimo Di Pausa Ok Time out Fermiamoci un secondo Ma quanti Guarda Io ora apro qui C'è la fila Ma ancora fruttivendolo Tutta sta Oh Oh Che la rissa Non ho capito Piano Sono delicato io Ok Ho la pelle delicata Quindi facciamo così Facciamo Ma sì Qualcun altro vuole venire Per caso Tanto c'è spazio C'è posto Non è Un Proble Problema Ok Abbiamo fatto un mob spawner Senza fare niente Ma qua C'è Oh Ma quanti sono Io vado a prendere tutta l'esperienza Io Siamo al 18 quasi Dove siamo passati noi Togliamo sta lab per favore Io ho una paura matta Di cederci dentro Anche se forse Non è la prima cosa Ah qui devo preoccupare Perché ci sono i creeper Se il creeper Si fa esplodere E mi sbalza nella lava Io mi incazzo Ok E tanto anche Va bene No Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Non ho danno Non ho danno in questo momento Ok Per favore Signor creeper Potrebbe gentilmente Lasciarmi stare Un attimo Perché veramente È tutto troppo veloce Cosa Cosa E ok Allora C'è un problemino Che è un problemone in realtà Che in realtà È un enorme problema Ok No 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 Caro amico Ti scrivo Ci siamo capiti malissimo Allora poi se faccio così Mi ha visto Mi ha visto fortissimo Ma perché Si tolgono le torce Ah non c'è la torce C'è la lava Cioè io raga Sto finendo La spada in ferro Ma quando mai Non ho mai finito Una spada in ferro In un solo episodio Praticamente Era nuova Era letteralmente nuova Questa spada Ce l'ho fatta con voi Fermi un attimo Perché qui Non può Continuare Così Ok Non può Non va bene Io soffro di cuore Quando faccio il secolo Ok Ho bisogno di un secondo Di pausa Time out Stop Oh Di qua Dovrebbe Cioè di là Dove c'è Risato il creeper Dovrebbe essere La strada di casa Ma ragazzi Ma ragazzi Qui siamo Altezza 18 Guarda che Se scappa il diamantollo In questo episodio Siamo a posto Basta Cioè E' finita la serie Può finire qua E' fantastica sta roba Redstone E' vero E' vero che mi manca In questa serie Aia Aia No No Non sparare Non sparare Fai male Fai male Muori Grazie E tu dove sei Quanti Quanti Ah sono solo due No ok Pensavo fossero molti Rapislazzoli Redstone Dai E dammelo Sto diamantollo Dammelo Sto diamante Redstone ragazzi Ci serve Tantissimo Questo ragazzi Ci porta avanti Anni luce nella serie Cioè veramente Si io non ho ancora una casa Ma già pensiamo a Redstone E la Rapislazzoli Che sono Molto importanti Qui un altro zombie Ovviamente Perché ci sono torce ovunque Ma tu comunque Sponi No mi sembra giusto Invece da questa parte Mob Mob a profusione Non finire Come se non ci fosse un domani Ma dei diamanti Neanche l'ombra Perfetto Grazie mille Arrivederci Quanto l'abbiamo fatto Splodere Wuhuu Li avete visti anche voi Vero Li avete visti Anche voi Vero Oh yeah Oh yeah Diamanti Diamanti Prego dimmi Che non è solo uno Non può essere solo uno Vero Non è solo uno Non è solo uno Si cavolo Sono ben Ok 3 4 5 6 Non so quanto sto contando 5 5 6 Ok ragazzi Mamma mia Mamma mia Siamo riusciti Nell'impresa Trovare i diamanti Così presto nella serie È una cosa che Non avevo mai fatto E che veramente È lasciato A bocca aperta Ragazzi Wow È stato un episodio Molto molto Combattuto È difficile Quindi contentissimo Di come stia finendo Perché ovviamente Non siamo ancora a casa E la morte È sempre dietro L'angolo Però Teoricamente Dovrebbe essere Una via Sicura Oh Allora Facciamo così Giusto per non Saperne leggerne E scrivere Io bloccherei Così Blocchiamolo così Non è tanto Ma è sufficiente Per non far passare Alcun tipo di mob E signore e signori È con estremo piacere Che vi informo Che siamo Riusciti A uscire Ed è pure mattina C'è proprio Una combo Perfetta Abbiamo passato Non so quanti giorni Non so quanti notti In miniera Ma almeno ora È mattina E abbiamo I nostri Fantastici diamanti Ragazzi Abbiamo Finito Una spada di ferro In un solo Episodio Era full Questa spada ragazzi Questa spada Era completamente piena Stavamo riusciti a finirla Giusto per farvi capire Quanti mostri abbiamo ucciso Siamo a livello 21 Ok E che dire ragazzi Un episodio Veramente fantastico Spero Che vi sia piaciuto Dividi ragazzi Nei commenti Se avete suggerimenti Per il prossimo episodio Io pensavo Di lasciare Questa zona Ovviamente più bella Per la zona di farm Quindi animali E farm Là sotto Qui in mezzo La casa E qui avanti Ragazzi Di lasciare Modificare leggermente La nostra La nostra spiaggia Perché ho visto Non è la prima volta Che ci sono veramente Tante tartarughe E non voglio Modificare questo habitat Quindi lascerò Assolutamente così Anzi Forse gli metterò Altra sabbia Ma direi che Avere le tartarughe Vicino a casa È una cosa Fighissima Quindi sono contentissimo Di questo posto Contentissimo E soddisfattissimo Di questo episodio Io vi ringrazio Come sempre Della visione Mi chiedono un like E un commento Se il video vi sia piaciuto Mi ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao Ciao